Grazie, sto cercando di riqualificarmi come consulente. Prima di tutto direi che il 5G è un cambiamento fondamentale per l'industria, ma non solo dell'industria, diciamo tutta la società, il modello di business degli operatori oggi è rotto, non funziona più, non produce più valore, ma è rotto da un po' di tempo, nel senso che il valore di una TLC oggi è basato sul cash flow, sulla cassa, quello che produce, non c'è niente del futuro, addirittura tanti operatori oggi hanno un valore negativo in borsa sul futuro, quindi valgono di più di gas di quello che effettivamente dice la borsa. Questo è un problema e ti dice qualcosa, dice che questi modelli di business sono completamente da rinnovare. Nello stesso tempo, allora il mercato c'è, hai detto tu, sono trilioni, trilioni di dollari che sono creati ovviamente di queste nuove tecnologie e anche nel TLC che è diviso tradizionalmente tra un business verso il consumer, il B2C, e il business verso diciamo le aziende, il B2B. All'incirca a livello globale un quarto del business degli operatori è sul B2B, quindi il 25%, il 75% è sul B2C, il consumer. Il focus degli operatori fino a ieri su tutte le tecnologie, sia fisse che immobili, sono stati soprattutto sulla parte dei consumers, ma quel mondo lì, con l'ingresso del 5G, il valore aggiunto per l'operatore probabilmente non c'è. Cioè il valore a livello di società è enorme, è un impatto enorme ovviamente sul cambiamento della vita, quindi alla fine come utilizziamo tutti i tecnologie nuove, gli applicativi, eccetera, cambia la vita e siamo disposti anche a pagare un sacco di soldi. Ma non crediamo che gli operatori purtroppo siano in grado o sarà molto difficile per loro aumentare i ricavi connessi al 5G. Quindi il 5G sul B2C è un concetto più di digitalizzazione nel senso di ottimizzare i costi, di far sì che questa piattaforma sia disponibile anche per consumatori a livello più economico. Quindi quando si introduce la radio sul 5G, almeno per i prossimi 10 anni probabilmente renderà più fruibile a livello di costo, ma non porterà più ricavi agli operatori. Sarà addirittura difficile per gli operatori difendere i ricavi che loro hanno sul B2C oggi. Sarà una battaglia, vedete quello che sta succedendo anche in Italia. Il ricavo oggi sulla broadband, che è praticamente illimitata, oggi al mese costa dai 6 ai 15 euro. è meno di quello che costa una pizza o una birra se vai al ristorante. Allora sicuramente se tu togli questo servizio a un giovane oggi e gli dici un mese io ti do una birra o una pizza oppure ti do la broadband. È chiaro ed evidente che loro dicono che preferiscono avere la broadband. però il valore percepito e il costo non c'è. Ok? Cosa si deve fare sul B2C? Allora a questo punto bisogna vedere come si creano i valori, dove vanno i valori. I valori stanno andando sempre di più sul super platform. Quindi l'economia viene creata sopra sul paradigma delle piattaforme globali. Le piattaforme globali hanno dei concetti dove riescono a capire quello che è il valore aggiunto delle tue transazioni. Quindi come fai ad aumentare il valore della tua vita? Tu sei disposto a pagare. E non è una fee al mese. Quindi devi avere dei trade assets, cioè degli insights della vita digitale dei consumatori per poterli far pagare. Ma magari non lo pagano di direttamente. Viene pagato come fa Google tramite la pubblicità. Quindi inseriscono anche un modello di business molto più complesso. Il modello di business non è un modello dove alla fine il consumatore finale paga, no, e viene percepito gratis, ma viene pagato poi tramite dei meccanismi dietro. Quindi sul B2C la vedo abbastanza scura. Sul B2B, quindi Enterprise, quindi Digital Italy, Industrial Internet, e quello vedo anche a livello globale, gli operatori sono molto concentrati su cercare di trovare gli use cases per l'industria. Allora cercare di vedere se si può utilizzare la 5G per creare delle use cases, per trovare nuovi ricavi. La cosa importante qua, e poi magari chiudo anche, è che la 5G non è solo radio, la 5G è anche la parte core network. La parte core network ti permette di introdurre due cose importanti, che sono dei trade assets, se riesci a farlo. Uno è la quality of service sulla parte IP, sulla radio, quindi significa che tu riesci a dare una connettività che serve a quel tipo di applicativo, quindi se c'è una bicicletta che è connessa, che produce magari dei gigabyte al giorno, tu riesci anche a trattare questi dati con dei machine learning algorithms e rispondere all'esigenza della bicicletta, ma riesci a farlo senza trasportarlo in America, senza trasportarlo a Londra, lo fai direttamente in loco. E come lo fai? Perché hai la connettività con la latenza garantita, connessa con una cosa nuova, che è la parte compute. Quindi c'è la parte computativa, che è una delle risorse più pregiate nel mondo oggi già, e nel futuro sarà sempre di più. Quindi questa combinazione è l'unica risposta, secondo me, per gli operatori nel B2B, di sviluppare la conoscenza delle esigenze e degli oggetti connessi e riuscire a rispondere con questi due ingredienti in modo molto dinamico. Questo significa che il modello di business cambia di un modello di business che tu paghi mensilmente per un fee di transmission ad una transazione, magari a 20 gigabit per secondo per un millisecondo. Questa transazione apporta talmente tanto valore, e potrebbe valere magari quanto pagano oggi per un mese, ma questa macchinetta qui, bisogna trovare use case dove questo valore c'è per poter poi finanziare anche questa piattaforma tecnologica. Quindi il futuro, secondo me, per gli operatori, sta di innescare un modello trasformativo del loro tecnologia, persone, modelli di business per rispondere a questa digitalizzazione. Anders, io sono curioso di sapere, ti faccio solo una domanda, se piccola, vediamo se la tua risposta sarà altrettanto piccola. 2G e 3G sono stati sviluppati in gran parte, insomma il successo di queste tecnologie nasce in Europa. 4G un pochino più conteso a livello globale, 5G? 5G sta partendo sicuramente in Far East e in America. La cosa interessante forse è che non sono i soggetti tradizionali che lo sviluppano, perché prima è stato sempre Ericsson, per esempio, Nokia, Huawei, Cisco. Oggi 5G è un ecosistema di sicuramente anche Ericsson, sicuramente anche dei player IT, SI come Accenture, IBM, che stanno sviluppando delle tecnologie nuove, ma soprattutto stanno sviluppando i use cases, i platform players. Quindi Google, Tencent, Amazon, che complementano questo ecosistema di 5G. Perché, ripeto, la tecnologia è interessante, no? Sicuramente la parte radio è molto interessante, le standard, anche il Connected Vehicle to Everything, CV2X, che tra l'altro è la prima G, che non è una G per le persone, ma è una G per le cose, è pensata per le cose. Quindi questa parte qui è interessante, ma non fa nulla se non cambi il modello di business, se non cambi gli applicativi, se non rendi disponibile il valore che poi produce. Il cloud distribuito, ibrido, il machine learning, sono degli strumenti, ma anche una pala è uno strumento, ma serve per fare un bel giardino. Alla fine il valore, chi lo prende? L'architetto, quello che vende la terra, i semi, la pala. Secondo me il giardino viene fatto insieme. E il 5G è il bello di questo, che va a toccare veramente tanti tasselli. E non è Europa. Oggi non è Europa. C'è una possibilità dell'Industry X20, che mi interessa anche quello che fanno in Germania, che potrebbe forse Europa prendere un posto. Sul consumer, noi abbiamo perso tantissimo tempo, ma sul enterprise potremmo prendere un posto forse in Europa. Ma c'è ancora la battaglia. Vorrei chiedere ad Anders, perché lui questa mattina mi ha fatto omaggio di una brochurina di Accenture su quello che fa Accenture per gli operatori di comunicazione, i service operator. Dice, From a connectivity provider to connectivity plus plus, quindi broadband, to a connected industry orchestrator. Cito quello che dice, selling full connected industry solutions, connecting value chains, embracing sensors, cloud connectivity and devices as a service. Cioè, in sostanza, non sono più telecom operator, ma cambiano natura. Come si pone il modello di business, la natura dei service operator in questa rivoluzione, rispetto a player come IBM, ma se vogliamo la stessa Accenture. Certo, certo. No, e questa è la bellezza, diciamo, dei modelli di business del futuro, è che sono tutti interconnessi. I clienti stessi non hanno una percezione da dove vengono i servizi, ma li comprano un po' istantanei, sono un po' liquid customers. L'opportunità è talmente grande. Allora, faccio un esempio. al mondo del B2B, continuo a parlare del B2B, perché credo che sia il più pertinente. Per gli operatori oggi, a livello mondiale, rappresenta all'incirca mezzo trillion, quindi 500 billion di dollari. Ci sono degli servizi emergenti, che si chiamano i digital services, quindi il cloud, la parte anche dell'IoT, la sicurezza, la Wi-Fi gestita, la software defined wide area network, tutti i servizi che stanno emergendo, che valgono ad circa oggi 300 billion. questi numeri, al contrario di quella che è la connettività, crescono il 18% all'anno. Si raddoppia in tre anni, che vuol dire che supereranno oggi tutto il business che fanno gli operatori sulla parte connettività, questa fetta, che non è poi niente della fetta complessiva, quello che magari Accenture oggi va a fare la digitalizzazione di un verticale, complementa poi alla fine tutti questi servizi che potrebbero offrire gli operatori. E finisco a dire che una delle cose fondamentali dell'operatore è che loro hanno oggi, godono di un trust, nel mercato, soprattutto anche l'europeo, che è molto forte, quindi le aziende si fidano di andare a comprare una connettività sicura da un operatore, perché dimostra in qualche modo la sicurezza su questo. La seconda cosa è l'approximity, di essere vicino a dove accade queste cose. Quindi in qualche modo è un ecosistema. Quindi il 5G è l'ancora di salvezza per gli operatori, perché la connettività si assottiglia e cresce il valore sugli altri servizi. Assolutamente, anche il valore non soltanto assoluto, ma anche il valore come bottom line, quindi il margine si è interpretato bene e non interpretato come un through cell. Allora gli operatori fino a 15 anni fa hanno iniziato a pensare all'opportunità di fare le system integrator. Quasi tutti gli operatori hanno cercato di fare l'ICT, però è diventato un low margin gain che non può funzionare. Quindi bisogna aiutare questo ecosistema di trovare dove il valore è veramente alto, perché se no diventa dilutivo. Allora va bene finché tu hai un mobile connectivity che ti gira intorno a 45% di EBITDA, ma non gira più a 45% di EBITDA, addirittura a 55%, molto più basso. I dati di oggi, tra l'altro, sulle revenues degli operatori che sono stati presentati ieri, sono scesi di, mi pare, 300 milioni dal confronto tra quest'anno e l'anno scorso. e l'anno scorso. Grazie a tutti.